Sono tanti anni ormai che collaboriamo con l'Arena BCC, con la cooperativa Tre Ponti, in modo particolare con l'amico Gino Bartolucci. Quello che proponiamo è uno spettacolo di musica classica, ma anche contemporanea, perché il 22 agosto all'Arena BCC proporremo le stagioni di Vivaldi e le stagioni di Piazzolla, nel centenario della nascita, perché è nato esattamente 100 anni fa, a marzo del 1921. Non saremo soli, non sarà solo l'orchestra e naturalmente le stagioni hanno il violino solista come principale interprete, ma anche la danza. Center Stage, di Pesaro, la cui direttrice artistica è Laura Mungerli, prepareranno delle coreografie che cercheranno di accompagnare la musica e rendersi anche protagonisti di questo spettacolo. Quindi vi aspettiamo il 22 agosto all'Arena BCC per questo spettacolo diverso dal solito per l'Arena BCC. Diciamo che nella storia della musica, soprattutto classica, ma in contemporanea, la danza è stata sempre molto presente nella musica classica. Ci sono tantissimi balletti, pensiamo solo a Tchaikovsky, il Lago dei Cigni, lo Schiaccianoci, o Prokofiev, o tantissimi altri, Stravinsky, la Sagra della Primavera. Diciamo che questa musica che proponiamo noi, Vivaldi, Le Stagioni e Piazzola, Le Stagioni, in un insieme di otto stagioni, non sono nate per la danza. L'abbiamo voluta accomunare noi perché in effetti le stagioni sia quelle di Vivaldi, ma soprattutto quelle di Piazzola, che era argentino, quindi la patria del tango, si prestano benissimo anche ad essere danzate.